Io sono Andrea, un procedigiatore mentalista, vorrei fare qualcosina se posso. Ma devi, devi. Tutti quanti, io ne ho manalzata, grazie, tutti i ne ho manalzata, grazie, tutti i ne ho manalzata, grazie, anche laggiù, grazie, fermi così. Buonasera, ho bisogno di un volontario. E quanti? No, ne basta uno. Vieni, 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 vieni. È alzato la mano, è alzato la mano. Capito, manco io. No, è alzato la mano, ho visto, è alzato. Vieni, vieni, ciao. Vieni, vieni, vieni. Ora, Amadeus, domanda tecnica. Vicino a te, sei più bello o più intelligente? Beh, faccio fatica, faccio io, così, anche voi, tutti così, grazie, tutti così, anche te, sciolti così, sciolti, tira sugli indici, quelli sono i pollici, perfetto. Abbiamo risolto, era una domanda, abbiamo risolto. Quindi sono più bello. Esatto. Un giocchino con le carte, mazzo normale, controlla che è normale, perfetto, attenzione, bisogna andare veloce. Prendi una carta, la scelta è casuale, di getto, come viene, prendi quella che vuoi, prendi quella che vuoi, perfetto, scelta casuale, è stata una scelta io, no, non vale, non vale. Prendi veramente quella che vuoi, prendi, 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 ok, perfetto, prendi, falla vedere a tutti e firmala, davanti, davanti, si vede, sì, qua, tutti qua, una bella firma, Amadeus, Amadeus. La farla vedere. Ok, Amadeus. Fala vedere ancora, la mettiamola nel mazzo, grazie. Via, l'esco, inserita, e via, spacco, dai, tiro, spacco, taglio, spacco, taglio, spacco, metto dentro il mazzo. Segui, tu segui, tu segui, metto così, bravissimo, bravissimo, guarda, come sembra che l'hai sempre fatto. attenzione mettiamo dentro attenzione ti chiedo una cortesia ho bisogno di un'altra persona sei rimasto così di solito scelgo così faccio lancio un oggetto chi lo prende viene perfetto allora attenzione no mica così le spalle lo dico vabbè niente si fidano di te si fidano di te guardate dal nulla dal nulla dal nulla signori dal nulla da un pezzo di carta qualunque una busta siamo in poi a riuscirci controlla che dentro non c'è niente controlla pure non c'è niente metti pure la mano tranquillo ora attenzione fermi prendo la carta immaginaria la carta immaginaria la lancia in aria silenzio entrata incredibile guarda guarda ecco che il joker è fermato joker firmato guarda incredibile guarda tieni tieni il lancia da te la prova vai se non ci voglia basta che lo dici devi fare una cosa no non fa niente mettiamo dentro mettiamo il mazzo qua dentro dentro non c'è niente controlla rimetti la mano bravo mettiamo dentro così chiudiamo qua la busta infiliamo il coltello forte così tieni forte forte tieni forte forte silenzio per la prima volta che carta era? il joker il joker il joker bravo bravo non so come è fatto attenzione guardate joker firmato da amadeus ah no scusa dimmi forte forse è meglio no va bene ma 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 essendo anche un mentalista molti mentalisti giocano con il cubo di rubi fanno le cose assurde assurde con la mente io mi sono andato anni a dire parole rigirate cioè un esempio dimmi una parola io la dico girata salve 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 grazie 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 bravissimo all'ignoto numero 2 bravo 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 molto bravo devo dire